Grazie, grazie. Magari non di fianco proprio... Presidente, grazie, Presidente, di qua, grazie. Presidente, stermi! È una riunione delle tante che teniamo nel corso di questo rapporto. Questa si tiene a Milano ed è con la ERT, che è l'associazione dei presidenti e degli amministratori delegati dei più grandi gruppi industriali europei. Quindi oggi è Industria e io ascolto. Presidente, a bravo ruolo, a fuori dell'Europa! Presidente, il futuro dell'Europa! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, mamma che bella fosse! Buongiorno, buongiorno! Grazie, grazie!